Bene amici di Revotech e anche chi non segue Revotech ma ci vede per la prima volta benvenuti a tutti abbiamo qua i due nuovi entrati di casa realme gt neo 2 versione 12 giga 256 di storage interno 5g snapdragon 870 e tutto quello che conoscete già perché ormai avete visto le recensioni ovunque ma comunque ci torneremo questa invece la vera novità questo realme pad il primo tablet di casa realme con dolby atmos ultra sottile 10.4 pollici 7100 miliampere di batteria helio g80 della mediatek gaming processor dolby atmos con quattro speaker dedicati e una ricarica rapida da 18 watt prima di parlarvi di caratteristiche del prodotto vi dico subito i prezzi così ci facciamo un'idea in teoria anzi sicuramente le versioni da 3 a 32 che non è questa sarà proposta a un prezzo di partenza di 239 euro mentre le varianti da 464 a 628 vengono proposte a 259 la 464 quindi questa versione e la 628 invece 289 euro quindi questo è sicuramente la versione lte anche se non è specificato nella scatola vedete che non c'è scritto niente per quanto riguarda la connettività 4g però questo è già anche 4g quindi potete installare una sim ecco qua stariamo dalla scatola già ci rendiamo conto quanto è sottile veramente sottilissimo qua c'è l'estrattore eccolo anzi non sia mai che non lo chiamiamo tupperello è tupperello cavo usb usb c eccolo qui alimentatore da 18 watt che necessiterà di un adattatore bello generoso anche lui lo sfiliamo eccolo qua davvero compatto nonostante sia un 10.4 pollici allora innanzitutto abbiamo una scocca metallica con uno spessore guardate che bello questo è un effetto dorato non è neanche grigio come dalla foto che c'è sulla confezione molto fine scocca metallica di alluminio presumibilmente che è sottilissima vedete il frame a mattoncino che ricorda un po quello del dell'oppo reno 6 che abbiamo recensito da poco e stile molto melamorsicata lo spessore è di soli 6,9 mm le colorazioni sono grigio scuro e color oro questa è la colorazione gold la diagonale abbiamo detto da 10.4 pollici una risoluzione 2000 per 1200 pixel con un rapporto di 16 decimi con una soluzione a livello di display lcd dimensioni effettive 246,1 per 155,8 per 6,9 mm di spessore per 440 grammi quindi meno di 500 grammi lungo il frame laterale destro c'è la porta usb c mentre lungo il frame laterale sinistro corto c'è il tasto power che andiamo subito a cliccare per accenderlo non c'è una penna ma c'è il jack da 3,5 mm posto esattamente sull'angolo questa è una soluzione molto molto interessante sotto il toccofano abbiamo mediatek helio g80 lo stesso visto su realme 6 i nazo 10 e redmi 9 ai più farà storcere sicuramente il naso perché parliamo ovviamente di un shock non tanto prestanti a livello di numeri si tratta di una soluzione a 12 nanometri con cpu octa core a 75 a 2 giga e gpu mali g52 mc2 per quanto riguarda le memorie come detto abbiamo 3 o 4 giga di rame 32 64 giga di storage interno adesso iniziamo subito a selezionare la nostra lingua per configurarlo perché è la prima volta che lo accendiamo rete mobile ci dice che ce la chiede ma noi non ci connettiamo questo dimostra che è presente la sim ci colleghiamo invece alla nostra rete wifi ecco interessante il fatto che nonostante ci sia la fotocamera che sporge posizionato sul piano non traballa pena pena ma neanche mezzo millimetro da una sensazione di solidità mentre lui finisce di caricare andiamo avanti dicendo che per quanto riguarda la batteria è alimentato da un modulo da 7 mila e 100 milliampere bene abbiamo fatto l'accesso con il nostro account google nonostante la batteria veramente molto capiente ciò non ha inciso assolutamente per quanto riguarda lo spessore del prodotto che rimane veramente sottile e facilmente utilizzabile soprattutto da portare dietro per le sessioni lavorative qui ovviamente c'è una fotocamera frontale per le nostre videoconferenze e le chiamate mettiamo subito un pin per quanto riguarda la ricarica abbiamo detto una 18 watt non è velocissima però probabilmente con la batteria così capiente riusciremo a salvaguardare la vita della batteria la casa produttrice dichiara una durata in videoconferenza di ben 12 ore e 65 giorni in standby perciò sulla carta dovrebbe essere mostruosa la durata della batteria vedremo se sarà così la cosa più interessante è sicuramente la presenza di questi quattro speaker con la funzione dolby atmos che dovrebbe essere immersiva al cento per cento qua c'è bilanciere del volume ecco non l'avevamo detto qua ci sono due microfoni nella parte alta qua c'è il vano per la sim vediamo se single sim o dual sim è dual sim oppure una sim è una micro sd addirittura c'è la connettività con doppia sim è come un mega smartphone che abilitato anche con doppia sim questo è molto molto interessante anche il fatto che sia espandibile dicevamo gli speaker che dovrebbero garantire un immersività dal punto di vista sonoro di tutto rispetto abbiamo poi due sensori fotografici uno frontale da 8 megapixel è un altro sempre da 8 megapixel posto qui nell'angolo vedremo quale sarà la qualità fotografica ma sapete benissimo perché per quanto riguarda un tablet è molto più importante la fotocamera frontale per le conferenze le chiamate e quant'altro rispetto a una fotocamera posteriore adesso lo andiamo a configurare andiamo a vedere se ci sono altri metodi di sblocco display mettiamo modalità scura mettiamo anche uno sblocco con il volto rifacciamo prima uno sblocco diretto benissimo vedete che ci sono alcuni menu ancora non tradotti del tutto e comunque già visto che c'è un aggiornamento di sistema e lo andiamo ad applicare subito su 248 mega di aggiornamento la nuova versione è la 11 a 0 1 210 814 riaviamolo subito è anche molto scivoloso perciò state attenti se lo utilizzate senza cover perché non è molto comodo da utilizzare visto che non ha molto grip perché tutto alluminio e scivola come connettività è presente anche il wifi ovviamente 4g bluetooth 5.0 usb c gps beidu e glonas abbiamo il dolby atmos ires audio adaptive surround due microfoni e anche due microfoni per la cancellazione dei rumori la versione che ci hanno inviato in prova è quella da 464 versione lte che viene proposta un prezzo di 259 euro che secondo me è un prezzo giusto per questo tipo di prodotto nonostante sia appena stato immesso sul mercato come unico e primo modello di tablet di casa realme ecco l'abbiamo riavviato dopo l'aggiornamento nel display curiosità non vedo nulla forse sono io che non riesco a trovarlo quindi nel caso mi aiuterete non trovo nulla riguardo le impostazioni dei colori vedete che non trovo nulla non ci sono opzioni relative alle impostazioni dei colori del bilanciamento il caldo freddo eccetera perciò probabilmente non l'hanno messo la luminosità non è altissima questa è ma è la luminosità massima lo teniamo circa a metà per riuscire a vederlo bene in video ma dal vivo tenendo la metà è quasi buio l'angolo di visuale è un po deficitario si vede poco se lo incliniamo invece vedete invece se lo tenete dritto verso i vostri occhi si vede molto molto bene adesso vediamo se c'è qualche altro aggiornamento ce n'è un altro disponibile e lo andiamo ad applicare subito questa è la realme ui dedicata ai tablet infatti si chiama realme ui for pad che non è la stessa che troviamo sugli smartphone realme ispirata ovviamente alla color os di oppo adesso ci sarà sicuramente una serie di aggiornamenti perché il prodotto è nuovo e ne arriveranno diciamo un po a raffica bene eccoci qua abbiamo riavviato per la seconda volta qua ci sono le info sul prodotto per mi pad 4 giga di ram 64 interni espandibile versione android 11 realme ui for pad versione v 1.0 ci sono due sim come detto il menu sembra molto fluido ovviamente non abbiamo un refresh rate che supera i 60 hertz perché display in tecnologia ips batterie da 7100 mili ampere non ho trovato nulla per quanto riguarda le impostazioni dei colori quindi questa è sicuramente una limitazione andiamo a vedere l'audio contenuti multimediali è altissimo è incredibile il volume dell'audio adesso proveremo a vedere con una prova su un video ottimizzazione suono vedete c'è la possibilità di attivarla potenziamento volume per altoparlante quindi non era neanche potenziato adesso andiamo ad abbassare un po perché era al massimo molto comodo il bilanciere qui secondo me è il jack messo in basso a destra è sicuramente una comodità ulteriore andiamo a vedere su youtube uno degli ultimi nati in casa xiaomi è un dispositivo che schermo intero vedete ad aggredire la fascia medio alta forte di un allestimento e di una scheda tecnica di tutto rispetto stiamo parlando dello xiaomi 11 t vuol dire tema dove finita la dicitura adesso però andiamo a togliere questa incremento del volume perché secondo me c'è troppo fruscio non so se l'avete notato anche voi fruscio di sottofondo vediamo se in questo modo è stato eliminato sì meglio allora l'incremento del volume provoca un fruscio di sottofondo perché avendo 4 attoparlanti è inevitabile è una specie di funzione loud che aumenta i toni medio bassi e di conseguenza va a aumentare anche il fruscio di sottofondo 2,8 mm di spessore con un peso di 203 grammi non è perciò un telefono comodissimo da tenere né in tasca né da utilizzare con una sola mano io ad esempio non riesco il volume è qualcosa di impressionante vediamo se riusciamo a collegarci a netflix se c'è vedere una scena lo andiamo a caricare subito netflix eccolo non lo vedo a a brutta storia il fatto che non c'è netflix forse c'è già nelle app predefinite vediamo se lo troviamo non c'è molto male andiamo a vedere gli sfondi per dare un'occhiata ai colori peccato che non ci sia l'impostazione per andare a settare i colori il tutto comunque sembra abbastanza fluido adesso andiamo a vedere la fotocamera eccoci la qualità della fotocamera frontale è sicuramente buona per fare videochiamate è senz'altro una soluzione di qualità poi abbiamo anche ovviamente la fotocamera posteriore ecco qui facciamo una foto veloce ovvio che non si può pretendere chissà cosa da un sensore da 8 megapixel su un tablet infatti la foto è scarsina ma è normale che sia così bene per quest'anteprima è tutto abbiamo visto come fatto lo proveremo bene metteremo anche la sim proveremo anche con l'utilizzo dei dati la batteria le prestazioni lo metteremo sotto stress e vedremo come si comporta nel quotidiano l'audio abbiamo avuto una prima infarinatura e soprattutto il volume che è impressionante non capisco perché non c'è netflix e non si può installare almeno per il momento io non lo vedo e non me lo da neanche sul play store ho provato a cercarlo ma come potete vedere non c'è non me lo da disponibile quindi questa è una cosa abbastanza grave se così fosse che non fosse compatibile perché allora andrebbe un po a stravolgere il discorso sui contenuti multimediali perché un tablet che è soprattutto votato alla multimedialità che non mi dà la possibilità di scaricare netflix per me è un tablet castrato patch di sicurezza del 5 settembre 2021 non è recentissimo ma vedremo se usciranno altri aggiornamenti e adesso andiamo ad unboxare il realme gt neo 2 ecco qua gt neo 2 5g lo unboxiamo velocemente ormai avete visto le recensioni un po ovunque quindi vi siete già fatti un'idea su come il prodotto alcuni di voi addirittura l'hanno comprato e gli è arrivato prima di noi purtroppo abbiamo avuto qualche disguido sia con amazon che con ebay ma alla fine abbiamo veramente trovato un'offerta della quale non si poteva fare a meno quindi non abbiamo potuto rifiutare questa offerta pazzesca siamo riusciti ad avere la versione 12 giga di ram e 256 giga di storage interno pensate a soli 350 euro con il coupon su ebay garanzia ufficiale realme due anni da un noto store che ce l'ha fatto arrivare in tre giorni con gls spedizione gratuita quindi a 350 euro praticamente l'abbiamo pagato meno della versione da 828 in promo perché la versione 8 128 in promo costava sui 370 questo invece veniva venduto a circa 390 già in promo col coupon altri 32 mi sembra euro di sconto e siamo riusciti ad averlo a 350 euro quindi in questo caso se riuscita da giudicare da questo prezzo non è un best buy è must have cioè dovete averlo a tutti i costi snapdragon 875 g processo 120 air display amoled 65 watt ricarica super rapida e anche camera di raffreddamento inclusa nel nella scocca per evitare su riscaldamenti questa è una peculiarità degli ultimi smartphone di casa realme inizialmente avevamo scelto il colore verde quello gettonato un po da tutti gli influencer ma poi abbiamo ripiegato sul nero classico opaco molto bello del quale non ci si stanca mai cover in silicone bella effetto vellutato dopo la proviamo super dart caricatore da 65 watt velocissimo e cavo bello lungo usb usb c tupperello per l'estrazione del vano per le due nano sim non è espandibile non abbiamo cuffie in dotazione però c'è la cover perciò direi che non c'è nulla di cui lamentarsi andiamo ad aprire il nostro smartphone che abbiamo già configurato per far prima in questi giorni perché ci è arrivato ieri ecco qui togliamo l'etichetta che va sempre mantenuta non bisogna buttarla via ecco questo bellissimo colore nero opaco all'inizio rimarrà un po l'impronta dell'etichetta ma pulendolo ecco va via subito ecco mi piace molto perché sì le impronte un pochino rimangono ma non troppo basta una passata e si pulisce facilmente se fosse nero lucido sarebbe anche molto difficile per la mia videocamera metterlo a fuoco perché sapete che i neri con le videocamere non vanno mai troppo d'accordo qua abbiamo il triplo modulo fotografico con il dual flash led bello posizionato simile un po al mi ricordo un po il posizionamento del oneplus nord 2 e anche i nuovi oppo reno 7 hanno un modulo fotocamera è praticamente identico bella la sfondatura sui bordi che conferisce un grip migliore e dalla sensazione che sia più compatto il retro è dovrebbe essere un misto fra policarbonato e vetro più vetro che plastica dico la verità anche al suono e alla consistenza che non mi sembra che si possa piegare più di tanto il frame è sembra plastica il frame però di buona fattura qui c'è il carrellino usb c lo speaker che è stereo con la capsula auricolare in alto c'è sopra un microfono per la soppressione dei rumori è una camera frontale con il buco con la mente intorno posizionati in alto a sinistra lo andiamo ad accendere per vedere com'è fatto sulla destra c'è solo il tasto power zigrinato quindi lo potete trovare tranquillamente anche al buio la sporgenza delle fotocamere non è esagerata perché già di per sé il lo smartphone è abbastanza spesso cioè non è proprio sottilissimo non è come il moto edge che abbiamo visto che era appena 7 mm di spessore compreso il modulo delle fotocamere questo è 8,6 mm di spessore ecco qua display che arriva fino a 1300 nits di luminosità quindi una roba sicuramente incredibile dal punto di vista della luminosità misura 162,9 x 75,8 x 8,6 mm di spessore come abbiamo appena detto sul lato sinistro abbiamo un frame con i due pulsanti dedicati per il volume non è un bilanciere tutto molto compatto e piacevole da tenere in mano più facile più ergonomico rispetto al allo xiaomi 11 t che abbiamo qua vediamo subito un po le differenze fra i due in termini anche di ingombro e dimensioni lo xiaomi appena un po più grande però stondato anche lui siamo siamo veramente circa lì come misura pensavo fosse più ingombrante lo xiaomi 11 t devo dire la verità ma alla fine siamo davvero molto molto vicini anche come spessore anzi forse realmi appena un po più spesso forse per questo che dà l'idea di essere un pochino più mattoncino adesso mettiamo la cover anche qui sul nostro gt neo 2 non abbiamo ancora inserito la sim perché dobbiamo iniziare a fare le nostre prove con calma e adesso proviamo subito lo sblocco col volto immediato guardate è fulmineo anche con l'impronta è veramente una scheggia in ogni situazione vediamo se ci sono aggiornamenti avevamo provato ieri sera non ce n'erano in questo momento non ce ne sono abbiamo android 11 con la versione 11 a 03 della realme ui 2.0 e le patch di sicurezza sono aggiornate a ottobre 2021 quindi molto molto recenti fluidità massima abbiamo un display come detto fluidissimo a 120 earth dinamici andiamo a vedere qua mettiamo tonalità più fredda perché mi piace di più modalità dei colori quello che non abbiamo trovato sul tablet delicata brillante vivace poi miglioramento colori video effetto nitidezza per le immagini video dimensione caratteri visualizzazione poi la classica personalizzazione sappiamo già video hdr luminosa velocità di aggiornamento selezione automatica standard 60 hertz oppure alta fissa 120 invece dinamica automatica in modo che lui la regoli automaticamente in base alle esigenze e soprattutto al tipo di utilizzo dolby atmos abbiamo adesso facciamo l'accesso immediato per vedere un po come si comporta ok ci sentiamo allora ha detto di no perché non vuole che andiamo da loro oggi perché rosa arton è tornata al lavoro è il suo primo giorno in parlamento quindi aspetteremo ma ci andremo all'improvviso l'im si è alzata sai la bella della legge per i commercianti e ha cominciato a imprecare contro il primo ministro poi in metà della sala ha iniziato a gridarle contro e alla fine molto bene audio che non tradisce è una garanzia realme ha fatto veramente passi da gigante sotto questo aspetto ma anche dal punto di vista della UI che è fantastica mi piace molto sono curioso molto per l'autonomia visto che abbiamo una batteria integrata da 5000 mAh display non dimentichiamoci che è un 6.62 pollici con risoluzione full hd plus 1080 per 2400 pixel densità di pixel del display 399 direi 400 ppi e il touch sampling a ben 600 hertz per una reattività immediata luminosità massima come detto 1300 nits con supporto all hdr 10 vi ricordo che a bordo abbiamo un qualcomm snapdragon 870 octa core a 3,2 giga quindi uno dei soc più equilibrati dell'anno processo produttivo dello snapdragon 875 g a 7 nanometri 256 giga di memoria interna e di tipo ufs 3.1 la grafica è affidata a una adreno 650 abbiamo poi tutta la sensoristica non c'è il barometro sensore di impronte digitale abbiamo visto bluetooth 5.1 nfc gps glonass non c'è la porta a infrarossi bidoni infarinatura generale sulle fotocamere abbiamo nel sensore principale un'apertura f 1.8 non c'è la stabilizzazione ottica non c'è l'autofocus laser non c'è un sensore toff e i video però vengono stabilizzati elettronicamente fino a una frame rate massimo di 60 fps poi la seconda fotocamera è una grandangolare da 8 megapixel con apertura f 2.3 e la terza invece questa più piccola è una fotocamera macro da 2 megapixel con apertura f 2.4 frontalmente abbiamo una soluzione a 16 megapixel con apertura f 2.5 proveremo il tutto proveremo l'oggetto la fotocamera i video e come al solito vi diremo le nostre impressioni pro e contro nella nostra recessione completa fra qualche giorno quando l'avremo fatto nostro a tutti gli effetti per il momento è tutto iscrivetevi al nostro canale youtube sfondate il tasto like venite sul nostro gruppo remote group su telegram salutiamo anche gli amici malati di smartphone sempre su telegram e venite a leggerci anche sul nostro blog ceotech.it il blog sulla tecnologia più figo che ci sia ci vediamo prestissimo un saluto da da pasqui e rebotech a tutti ciao 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 ciao